Buongiorno, grazie della sua disponibilità. Dottoressa, lei è riuscita a sentirmi nella presentazione con lei faremo il punto della situazione dell'impatto Covid sui under 19. Tra l'altro, se vogliamo fare un piccolo passo indietro all'inizio di questa pandemia, in realtà i giovani erano i soggetti meno a rischio Covid, cosa che attualmente sta cambiando. Tutta colpa di Omicron? Non c'è colpa perché i soggetti al di sotto dei 19 anni hanno iniziato il ciclo vaccinale successivamente agli over 19, quindi è una conferma ancora dell'efficacia dei vaccini. Quindi di sicuro, come dice lei, l'avanzata delle varianti Delta e Omicron nei bambini resta molta preoccupazione perché attualmente in Italia circa un contagio su 4, cioè circa il 25% riguarda nelle ultime settimane le fasce di età under 20. Quindi è un problema soprattutto pediatrico, ma perché, ripeto ancora una volta, le vaccinazioni si sono avviate successivamente rispetto all'età più avanzata. Parlavo giustamente di un problema pediatrico e quindi io, se lei mi permette, vorrei entrare nel merito perché come si cura, come si gestisce l'impatto Covid nell'età pediatrica per l'appunto che riguarda i più piccini? Quali cure vengono messe in atto e in campo per il trattamento del Covid? Allora, dobbiamo differenziare l'età pediatrica da 0 a 19 anni e come dicevo, negli ultimi settimane proprio l'Ustituto Superiore di Sanità ha fatto vedere, ha riportato i dati che vanno della incidenza aumentata nel periodo dal 20 dicembre fino al 2 gennaio con un aumento di circa 197 mila nuovi casi al di sotto dei 19 anni, di cui alcuni hanno necessitato dell'ospedalizzazione, cioè su 197 mila, 832 mila bambini e ragazzi al di sotto dei 19 anni sono stati ospedalizzati. 8 ricoveri in terapia intensiva e purtroppo un decesso. Come possiamo vedere da questi numeri, 197 mila nuovi casi, però ringraziando Dio un piccolo numero è stato ospedalizzato perché nella maggior parte dei bambini le manifestazioni sono lievi, cioè nonostante non possiamo escludere manifestazioni severe che possono portare all'ospedalizzazione e addirittura alle terapie intensiva. Nei casi asintomatici il bambino verrà assorbato, dipende dalla severità dei sintomi, abbiamo la febbre che va curato con gli antinfiammatori, se c'è tosse senza febbre altra si procederà con una terapia topica inalatoria, cioè l'aerosol terapia, se c'è tosse con febbre si ricorre agli antibiotici, quindi bisogna vedere il grado di compromissioni delle condizioni generali del bambino. Nella maggior parte, ripeto, sono bambini asintomatici che vanno osservati perché alcuni di questi possono anche manifestare successivamente delle complicanze come può essere quella tenibile della MISC-C di cui sentiamo parlare, cioè la sindrome infiammatoria multisistemica che porta fino a infiammazione degli organi quali il cuore, il cervello, il polmone, quindi questi sono rari casi ma che richiedono nella maggior parte dei casi la terapia intensiva. L'età media di questi bambini colpiti da questa manifestazione severa è 9 anni, quindi anche in età pediatrica ci possono essere delle manifestazioni severe da Covid-19. L'età la... sì, prego. Da richiedere fino al recovery in terapia intensiva. Giustamente lei parlava di manifestazioni infieri, quelle che poi si presentano nell'evoluzione del Covid quando esso si presenta, però c'è anche un altro discorso, dottoressa, ovvero quello del long Covid, ovvero tutte quelle manifestazioni, quei sintomi che permangono magari per mesi, per lungo tempo, nonostante si sia poi avuta la negativizzazione dal Covid. Come comportarsi in questo caso, ma come rassicurare i genitori quali comportamenti adottare? Giustamente, il long Covid è un'altra manifestazione che può verificarsi anche nei bambini che hanno avuto l'infezione da SARS-CoV-2, perfino asintomatici, però dopo alcune settimane manifestano difficoltà respiratorie, che hanno soprattutto astenia, debolezza, soprattutto anche una carenza di concentrazione. Il bambino è distratto e apatico, in questo caso è un bambino che va seguito e in caso di sviluppo di manifestazioni più importanti, soprattutto proprio stanchezza, apatia, va consultato chiaramente il pediatra. In tutta questa ottica, dottoressa, il nostro invito qui a mattina live è per restituire ancora maggiore informazione trasparente per il nostro pubblico, perché in questa ottica è chiaro che fare il vaccino anche ai più piccoli diventa uno scudo essenziale, importante, però bisognerebbe convincere ancora molte famiglie che per l'appunto sono preoccupate per la somministrazione del vaccino ai propri figli e ai più piccoli. Vogliamo ribadire che il vaccino under 18 è sicuro? Sicurissimo. Negli ultimi settimane sono state avviate le vaccinazioni per la fascia di età 5-11 anni. Fortunatamente dai 12 ai 19 anni la copertura vaccinale interessa la gran parte dei ragazzi, quindi è stata veramente accolta bene sia dagli adolescenti sia dagli genitori di questa fascia di età. Oggi invece ci troviamo soprattutto di fronte alla necessità, come ha detto lei, di convincere i genitori di far vaccinare i bambini ove 5 anni, perché il vaccino è l'unica arma sicura ed efficace che abbiamo per combattere la pandemia. Le perplessità dei genitori sono legate a possibili effetti collaterali, anche perché per false notizie di pochi bambini convolti negli studi iniziali e sperimentali sull'efficacia del vaccino. Ma la campagna vaccinale nella fascia di età 5-11 anni in Italia ha avuto l'avvio dopo la campagna vaccinale in America e in altre nazioni europee. Quindi ad oggi ci sono milioni e milioni di bambini, si è arrivato a 10 milioni di bambini, 5-11 anni, già vaccinati in America e gli effetti collaterali sono minimi. Quindi efficace e sicuro il vaccino. E in questa ottica, dottoressa, che supporto può restituire la neocampagna vaccinale all'interno delle scuole? Molto importante, perché noi vediamo che la copertura vaccinale nella fascia di età 5-11 anni ad oggi è ancora un poco bassa. Ad oggi siamo intorno al 20%, con una notevole differenza tra una regione e l'altra. La regione più virtuosa è la Puglia. La Puglia dove si è raggiunto un grado, una copertura vaccinale del 34% contro altre regioni, tipo la Sicilia, dove siamo il Piemonte. Piemonte 9%, Sicilia 15%. Il successo della campagna vaccinale in Puglia è proprio dovuta al coinvolgimento delle scuole per l'attivazione come hub vaccinale. Quindi di sicuro quello che lei suggeriva è un elemento importante per implementare la campagna vaccinale in questa fascia di età. Dottoressa, da un lato sicuramente implementare la campagna vaccinale, io però le pongo ancora un altro quesito. Può bastare il vaccino per frenare la pandemia fra i più piccoli? Lei ha citato dei numeri, numeri differenti da regione a regione, non dimenticando che i numeri sono incidenti e che i bambini al di sotto dei 5 anni non possono ricevere il vaccino. Quindi in questa ottica come trovare la quadra e come frenare la pandemia nei più piccoli? Di sicuro anche i bambini al di sotto dei 5 anni, c'è un numero elevato di bambini che sono stati colpiti dal Covid-19. Siamo in attesa del vaccino anche nella fascia di età 6 mesi, 5 anni. Ma nel frattempo cominciamo a vaccinare quella fascia di età per la quale il vaccino è disponibile. Certamente aumentiamo la protezione sia intrafamiliare, sia a livello proprio di sanità pubblica, ma soprattutto permettiamo a questi bambini in questa fascia di età di ritornare a una vita normale in sicurezza, di ritornare all'asilo, di ritornare a scuola e interagire con i propri coetanei. Dottoressa, un ultimo messaggio a questo punto anche per i genitori. Quindi ribadiamo l'importanza anche perché nel caso dei bimbi a di sotto dei 5 anni sicuramente l'attenzione da parte dei genitori deve essere più alta in questo periodo storico, ma comunque un'attenzione alta anche nella decisione di voler far vaccinare i propri figli. Perché in realtà il ruolo, la partita si gioca proprio attraverso quella che poi sarà la decisione da parte dei genitori che dovranno essere attenti nell'uno o nell'altro caso di scelta. Ma io sono convinta che i genitori italiani siano delle persone molto consapevoli nei confronti proprio della salute dei propri bambini e ci si è ormai diffuso il convincimento che l'unica arma certa che abbiamo nella serie di incertezze che circola, incertezze intorno alla pandemia, l'unica certezza offerta dall'efficacia e dalla sicurezza dei vaccini. Nelle nazioni europee dove il tasso vaccinale è più alto, tipo il Portogallo, la pandemia è sotto controllo, veramente c'è un ritorno quasi alla normalità. In altre nazioni purtroppo dove i tassi vaccinali sono molto bassi, purtroppo c'è una preoccupazione veramente elevata per l'alto numero di contagi. Dottoressa, grazie di cuore davvero del suo prezioso contributo. Sicuramente attraverso lei abbiamo restituito chiarezza al nostro pubblico e sicuramente anche ai genitori che ci stanno seguendo. Grazie alla dottoressa Anna Maria Stagliano, presidente della Società Italiana di Pediatria, per aver fatto appunto il focus sulla situazione vaccinale e sull'effetto pandemico nei più piccoli. Grazie davvero, buon lavoro e a presto. Grazie a lei, grazie a lei. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina Live. Grazie a lei, grazie a lei.